Personale delle volanti, transitando per Viale Nitta, ha notato un'auto che effettuava più giri della rotatoria posta all'incrocio con via Capinera. Visto tale comportamento sospetto, gli operatori hanno intimato l'alta al conducente, ma questo, piuttosto che fermarsi, ha cercato di sfuggire al controllo. Ne è nato un inseguimento nel corso del quale il conducente dell'auto ha tentato di speronare la volante, danneggiandola e ferendo gli agenti dell'equipaggio. Giunto su Viale Nitta, il fuggiasco ha perso il controllo della propria autovettura andando a finire fuoristrada, proseguendo poi la fuga a piedi. Dopo un breve tratto, però, è stato raggiunto e bloccato nonostante la strenua resistenza opposta. All'identificazione è risultato essere un pregiudicato catanese addosso al quale, dopo una perquisizione personale, i poliziotti hanno rinvenuto due coltelli a serramanico e arnesi atti allo scasso, tutto immediatamente sottoposto a sequestro. Dai successivi accertamenti è anche emerso che l'auto utilizzata era stata oggetto di furto denunciato quella stessa mattina. L'uomo è stato quindi arrestato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e indagato in stato di libertà per i reati di riciclaggio, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o Maldelli. L'auto è stata poi riconsegnata al legittimo proprietario dopo averlo preventivamente rintracciato.